23 o 22 93 ma tu pensa che io stavo guardando leonardo tu mi vuoi andare short io la vedo long pensa te però abbiamo già dato un'ottima indicazione per gli amici a casa però perché laddove io voglio andare short è già un'indicazione per andare long laddove pietro dice che si va long è un'indicazione però voglio spiegarti la mia logica se ne può avere una movimento discendente quello che ha caratterizzato il mese di giugno ritracciamento il primo che si ferma sul 50 per cento di fibonacci ok poi qua addirittura il recente topo del 15 di luglio è arrivata al 61 e 8 di fibonacci candela di engalfi quella costruita con il 16 il 17 di luglio oggi la partenza è debole il titolo è in recupero però ecco andando a vedere anche il grafico su base oraria la candela della prima ora non è banale è il perché il mio dubbio tra i 22 e 93 piuttosto che i 23 è perché il livello dei 93 è questo e lo vedete qui e insomma sarebbe anche più o meno in media re rispetto alla candela della prima ora l'area dei 23 oltre ad essere psicologica ci va un po' ridurre il rischio di per quanto riguarda i perditi dello stop lo stop l'ho messo sopra questi top per la precisione a 23,63 ma iniziamo prima di dire i livelli con a darmi tu una risposta lascia 22,93 mentre stavo dicendo che comunque se io avesse avuto in mente l'idea andare long sarei nati in aria 22,50 e quindi ci sta che dai 22,93 ci possa essere questa correzione verso 22,50 che poi sono i minimi e importanti che più volte il titolo da lì ha rimbalzato e però c'è anche il l'altro elemento che il recupero il georecupero che abbiamo visto nei giorni passati è arrivato con volumi bassi rispetto alla correzione che invece è arrivata con volumi forti quindi è possibile anche che siamo di fronte ad una possibile fase correttiva che possa appunto riportare prima verso aria 22,50 e a seguire l'area dei 22,20 22,25 quindi come operazione ci sta i livelli long sarebbero distanti. Il mio target però non è a 22,50 è proprio un euretto sotto 21,50 sì sì. Insomma non mi sembra un buon momento per l'Italia sul fronte politico e dello scacchiere internazionale fra quello che è stato il voto in Europa fra quello che è stata anche la nomina rappresentante della Nato per il sud Europa dello spagnolo con tanto di lettera a scritta dal diplomatico italiano insomma ho considerato questo. Allora vedendo il quadro tecnico e grafico così come mostrato anche nella chart che vediamo in onda questa è la strategia che andiamo a proporre un'operazione short su Leonardo che si attiverebbe a 22,93 in ottica multiday con uno stop a 23,63 e un target a 21,50 questa la mettiamo a referto un'operazione short sull'area short sull'area e un'operazione short sull'area Anche all'operazione soft.